buongiorno a tutti nuovo video allora è una premessa un po lunga poi girerò la fotocamera ok allora come da titolo fuori tutto credo farò due video perché sennò penso vengano troppo lunghi eventualmente metto la stessa premessa anche nel secondo video allora perché il fuori tutto allora io ho tante creazioni di 2-3 anni fa che ho ancora come dice Bruvamotti fermi con le quattro frecce nel senso che sì che bello creo faccio i mercatini poi ho sempre rimandato l'idea di fare i mercatini ho fatto il passo alla fine dell'anno scorso che ho preso i tavoli il gazebo le luci prese prese industriale prolunga eccetera eccetera ho fatto due mercatini e poi ho detto ok poi comincio ho fatto le mie prime esperienze poi ho detto poi comincio con la primavera l'idea era quella quasi fissate tutte le date di farne uno al mese più o meno quindi marzo aprile maggio giugno perché poi inizia a fare caldo ecco poi è arrivato il lockdown che mi ha rovinato tutti i piani e quindi io ho in un certo senso la necessità di permettermi a creare cose nuove di liberarmi un po di quelle più datate e quindi siccome tante mie creazioni hanno colori estivi comunque con colori più accesi che io vedo più a lati d'estate primavera estate rispetto al periodo poi di natale in cui a questo punto farò i prossimi mercatini mi resterebbero lì per un altro anno ecco e quindi niente volevo semplicemente mostrarvi quello che che ho se vi piacerà qualcosa mi contattate preferibilmente se potete su instagram con un direct anzi se volete seguirmi la comunque trovate il mio tutte le info come fanno le altre qua sotto nel box informazioni altrimenti via messenger su facebook sulla mia pagina fan di facebook altrimenti via mail strutturerò i video in modo da farvi vedere velocissimamente le creazioni tant'è che non le tiro fuori dalle bustine dove sono già la maggioranza insomma perché comunque trovate tutte le foto praticamente tutte le foto tra facebook e instagram quindi se avete bisogno di foto più carine insomma le vedete lì vi faccio solo una foto riassuntiva con un righello di lato giusto per rendervi un po conto delle dimensioni se dovesse piacervi qualcosa ovviamente i prezzi sono stramodici perché ovviamente sono cose ribadisco che non venderei fino all'anno prossimo perché comunque sapete io in realtà indosso tutti i colori di gioielli in tutte le stagioni dell'anno però ho notato che ci sono molte persone che dicono ma queste sono tutti colori estivi e quindi così niente quindi ovviamente ci sarà uno sconto per chi acquisterà più cose per le spedizioni se non siete comunque qua in zona io di solito mi appoggio al corriere ho spedito solo una volta con la posta 1 la spedizione è nata a buon fine però io lì non vi assicuro niente quindi comunque eventualmente ci mettiamo d'accordo privatamente se dovesse piacervi qualcosa in tutte le foto vi metto il resoconto diciamo di quello che vi ho fatto vedere fino a quel momento con i numeri da 1 a dove sono arrivata così mi potete dire guarda la foto 1 mi piace l'orecchino numero 3 o quello che è insomma penso di avervi detto più o meno tutto non mi viene in mente altro se avete domande ovviamente me le potete lasciare qua sotto se vi piace qualcosa direct di instagram è quello in cui sicuramente rispondo con più velocità il messenger lo uso solo da computer quello di facebook quindi sono un po' più lenta a rispondere e la mail ovviamente la controllo tutti i giorni quindi mi arriva la notifica sul telefono vedete voi insomma come potrebbe farvi più comodo comunque vi rispondo ecco questo è il senso della cosa e niente spero di avervi detto tutto se avete qualche altro dubbio mi lasciate un commento qua sotto e buona visione un bacione alla prossima ciao eccoci qua allora ho girato la telecamera vi faccio vedere tutti gli orecchini smaltati al momento più o meno vi dico semplicemente numero 1 numero 2 poi vi metto la foto riassuntiva in base a quanto è grande sullo schermo più o meno sai paio per per tipo allora il numero 1 è questo che sono quelli verdi le foto le trovate praticamente tutti su instagram o anche penso anche su facebook di averle messe questi sono i numeri due questi sono tutti rettangolari numero 3 che è viola e rame numero 4 molto estivi con questi azzurri ok numero 5 sono questi per notti d'estate calde rossi i glitter dorati poi ci sono questi per le notte stellati sono sul blu turchese con dei puntini oro e il numero 7 questi più piccolini che sono viola rosa e verde ok e questi sono i primi poi ho questi anche questi smaltati allora sempre questo numero 1 mi dite della seconda foto eventualmente sono questi che hanno questa translucent blu e oro questo numero 1 questo numero 2 che sono neri e oro numero 3 sono panna sono color panna con un po di giallo e glitter numero 4 sono simili stessi colori però rettangolari numero 5 sono questi numero 5 sono questi viola e oro e numero 6 sono questi che sono un blu notte con dei metalli inseriti a questo effetto un po sgranato che è proprio tipico di questo colore di smalto ok e questa è la seconda tornata poi terza foto ricordatevelo semplicissimi anche questi azzurro turchese con i glitter azzurri e questa parte smaltata il numero 2 invece sono sul rosso ok poi questi che sono gli ultimi in realtà che mi sono rimasti con il cuore sono il numero 3 queste sono chips di corallo e madre perla poi le ultime collanine che mi erano rimasti su questo stesso stile questa sempre viola e glitter che si abbinano agli orecchini che avete visto questo è la numero 4 poi abbiamo sempre collanina questa numero 5 con la stessa traslucenza degli orecchini che avete visto e questo è leggermente dorato ok poi come braccialetti questo che si abbina quindi di questo potete fare anche tutta la parura questo è il numero 6 e questo braccialettino che è il numero 7 che è sul viola rosa panna ok queste sono la terza foto che vedrete poi foto che vedrete come numero 4 gli unici che mi sono rimasti imbossati che sono questi sono sempre ottone e violetto ok questi sono i numeri 1 questi sono rame e turchese numero 2 questi sono viola e turchese numero 3 e questi sono sempre viola su rame numero 4 aggiungo in questo step gli unici due che mi sono rimasti in alluminio martellato quindi numero 5 sono questi quindi numero 5 sono questi li vedete negli ultimi video io vi metto i link a tutti i video ve lo ricordo dove li ho mostrati dove li ho mostrati se no alle foto vi rimando alle foto e questi qua numero 6 poi in alluminio rossi sono quelli che vi ho fatto vedere quindi potete rivedervi il video le creazioni che ho fatto per il mercatino di natale vi metto il link qui sotto allora questi sempre in alluminio sono numero 1 questi il numero 2 questo numero 3 sono tutti martellati numero 4 e numero 5 sempre questo con i mezzi cristalli ok poi alluminio dorato li avete visti anche questi nell'ultimo video di creazioni per il mercatino di natale questo è un dorato che mi piace tantissimo questi sono i numero 1 numero 2 sono lavorati in wire numero 3 ok sono tutti martellati vi ricordo e numero 4 ok passo i braccialetti sempre in alluminio ve li metto con il righello sotto vedete che sono sui 22 21 22 cm perché io li faccio sempre lunghi anche per questi se vedete hanno l'anellino qui e poi per accorciarli perché mi piace comunque vedere sempre un po' il pendentino vi faccio poi la foto 1 2 3 e 4 ok queste sono le collane dorate io con il sole che ci sembrano bianche ma sono dorate lo vedete poi in foto spero e vi ho messo il righello così vedete questa arriva a 37 quindi dovete ovviamente moltiplicare per due e questa arriva a 33 più o meno ok quindi 123 ovviamente sono accorciabili perché io le faccio sempre un po' lunghe l'altro perché preferisco dover togliere piuttosto che aggiungere faccio la foto ok queste sono altre tre collane tutte asimmetriche le vedete sono in rosso e in argento e sono lunghe la più lunga qui arriva a 44 questa comunque 44 43 questa siamo sui 37 38 ovviamente sono tutti accorciabili anche queste quindi facciamo 1 1 2 e 3 eccoci qua con le ultime due in alluminio come vedete allora il numero 1 e numero 2 queste sono un po più cortine perché arrivano al massimo a 31 centimetri ovviamente anche queste si possono accorciare